domenica 12 giugno dalle 7 alle 23 si vota per 5 referendum abrogativi il testo integrale dei cinque quesiti è disponibile su www.interno.it chi vuole che le norme oggetto di ciascuno dei quesiti siano abrogate deve tracciare un segno sul riquadro sì chi invece intende mantenere in vigore tali norme deve tracciare un segno sul riquadro no affinché ciascun referendum sia valido è necessario che almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto partecipi alla votazione per gli elettori affetti da disabilità e per i malati intrasportabili le modalità di voto sono regolate da norme specifiche che gli uffici comunali possono illustrare votano tutti i cittadini maggiorenni presentando un documento di identità e la tessera elettorale